Ciao a tutti, sono Lorenzo Marsaglia e sono un tuffatore. Ho vinto la medaglia di bronza agli ultimi campionati europei e sono pluricampione italiano, dal trampolino di 3 metri. Rispettare il nostro pianeta e gli altri è alla base di un futuro migliore per tutti. Infatti io sento molto questa ricorrenza della cinquantesima edizione della giornata mondiale della Terra, poiché essendo uno sportivo e un atleta delle forze armate italiane faccio della coesione, del rispetto degli altri e del rispetto della natura i fondamenti della mia vita. Infatti il messaggio che volevo dare è proprio questo, di rispettare gli altri e rispettare il nostro pianeta.